Buona costruzione In questa azione Mancata un po' di inventiva forse Cercavano lo spazio per affondare Però non l'hanno trovato Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Pronto al tiro Buca la rete Niente da fare per la difesa Che ha provato in tutti i modi ad arginarlo Senza successo però Questo è un gol di pura caparbietà Era pressato, ha resistito E si è fatto largo trovando spazio per tirare Goal! Dopo 14 minuti È il numero 39 Grazie a tutti